Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. In FIPILI per lavori due chilometri di coda tra Empoli e Montelupo-Fiorentino, rallentamenti tra Montelupo e Ginestra-Fiorentina e un chilometro di coda tra Ginestra e la Strassigna in direzione Firenze, rallentamenti tra Ginestra e Montelupo in direzione Livorno. Sempre in FIPILI coda e a tratti tra la Strassigna e Firenze-Scandici verso Firenze, per lavori chiusa l'entrata di Empoli in direzione Firenze. In A1 code tra Barberino di Mugello e Calenzano-Sesto Fiorentino in direzione Roma. In A11 in direzione Firenze code a tratti tra Chiesino-Zanese e il Bivio con l'A1 e rallentamenti tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!